Sono circa 24.000 i profughi arrivati in Italia provenienti dall'Ucraina. La loro accoglianza riguarda soprattutto le principali città del nostro paese che si sono già mobilitate per individuare le strutture idonee per appunto accogliere queste persone. Anche per i rifugiati sarà ovviamente obbligatorio rispettare le norme sanitarie vigenti in Italia. Gli arrivi proseguono senza sosta. Ogni giorno migliaia di persone in fuga dall'Ucraina raggiungono l'Italia. La via di transito principale resta il confine friulano rivolto a nord-est. Le grandi città come Roma, Milano, Napoli e Bologna sono le principali destinazioni. Per i profughi le porte sono aperte, ha ribadito il premier Draghi. Dovranno però sottoporsi alle norme di tutela sanitaria anti-Covid in vigore nel nostro paese. Molti non sono vaccinati, dovranno accettare di farlo, altrimenti per loro sarà necessario effettuare un tampone ogni 48 ore. Finora i 24.000 rifugiati già censiti, al 90% donne e bambini, in entrata ad un ritmo di circa 3.000 al giorno, si sono rivolti soprattutto alla rete di parenti e conoscenti della comunità ucraina. Governo, regioni e gli altri enti territoriali proseguono il confronto sui piani di accoglienza che comporteranno anche l'utilizzo di strutture pubbliche. In un momento successivo si coinvolgerà la rete dei Covid Hotel e si farà ricorso alle altre strutture ricettive. Si muove anche il mondo del volontariato. Associazioni e privati stanno mettendo a disposizione stanze, appartamenti o seconde case. La disponibilità va però segnalata alle prefetture e la raccomandazione del Viminale. Bisogna attrezzarsi per accogliere sicuramente decine di migliaia o qualche centinaio di migliaia di rifugiati, preparandosi in maniera modulare, ha detto il capo della protezione civile Curcio, in Romania per l'arrivo del primo convoglio di aiuti umanitari destinati alla popolazione in uscita dall'Ucraina, inviati dall'Italia. Materiale sanitario per allestire ospedali da campo e medicinali consegnato presso uno dei principali hub europei per lo smistamento. I trasporti proseguiranno, previsto anche il trasferimento di 23 ambulanze impiegate e successivamente donate per l'assistenza alla popolazione.